L'ampliamento del lab logistico di Sedico, la costruzione del pala Luxottica ad Agordo, la fusione con i francesi di Essilor passata era GX dalle commissioni antitrust di Mezzomondo. L'ultimo anno o poco più è stato piuttosto intenso per Luxottica. A maggio è emerso a margine dell'assemblea dei soci tenutasi a Milano, dovrebbe concludersi il processo di fusione con Essilor, colosso del settore delle lenti. Questo matrimonio, analizzato in ogni suo aspetto dall'antitrust europea e di diversi paesi al mondo, tra cui il Canada, l'Australia e la Cina, creerà un nuovo gruppo industriale per cui si studia già una quotazione a piazza affari e alla borsa di Parigi. Intanto Luxottica ha rafforzato il proprio polo logistico bellunese, già il principale snodo italiano, con un ampliamento dello stabilimento di Sedico 2, che per effetto di un intervento in due stralci ha aumentato la propria estensione del 55%. Centinaia di posti di lavoro creati e potenzialmente anche nuove corriere da riempire per la tradizionale festa di Natale, che si è sempre tenuta nello stabilimento di Agordo ma che, dopo anni di piatti fumanti sotto la volta di una tenso struttura, a dicembre 2017 si è svolto nel nuovo palazzetto costruito da giganti dell'occhialeria sul lato opposto della tangenziale. Il Pala Luxottica nasce come struttura per usi interni ma, tramite un apposito regolamento, potrà aprirsi anche alla cittadinanza.